Salve, l'audio video di oggi serve per presentare anche il mio ultimo lavoro che può essere consultato già da adesso, che è una novità, diciamo un audio video book con 18 capitoli dal titolo mezzi e metodi per costruire seduti di elementi speciali nel calcio, la forza nel calcio in modalità d'uso. L'esigenza di questo audio video book nasce dal confronto quotidiano con tanti colleghi e studenti di scienze motori e per chiudere il cerchio diciamo quindi viene fatta una trilogia dato che il penultimo libro dalla metodologia dell'allenamento ha analizzato molto gli aspetti teorici di quelli che sono gli approcci metodologici nell'allenamento in generale per arrivare a quella che è la strategia metodologica nel calcio. Poi c'è stato l'ultimo libro, la dispensa dell'allenamento metabolico e neurologico nel calcio, dove ho analizzato naturalmente in maniera più pregnante gli aspetti pratici con l'analisi della biometria che è stata rivisitata completamente dal professore Colli attraverso l'audio video inserito sul DVD e questo audio video book analizza praticamente gli aspetti pratici di quelli che sono gli allenamenti metabolici e neurogeni nel calcio al fatto attraverso l'audio video quindi rimane molto più impresso la la estrapolazione di quelli che sono i parametri da osservare secondo me nell'allenamento e l'osservazione di nuovi parametri per individuare le fasi intense e il netto delle fasi intense sia per quanto riguarda l'aspetto metabolico che l'aspetto neurogeno e poi la stessa cosa è stata fatta per quanto riguarda l'analisi della forza quindi il punto di partenza secondo me è quello di individuare l'espressione di forza che noi pensiamo di allenare avendo le conoscenze scientifiche per poter fare questo in maniera anche alquanto semplice e poi tutta una serie di audio video dove indico sempre attraversi immagini e video con software dedicati all'utilizzo semplice come costruire delle sedute di allenamento e l'audio video termina con un capitolo un audio video capitolo che da un'impostazione alquanto originale di una costruzione di un microciclo in questo audio video farò vedere solo alcuni stralci di cose che tratterò in maniera più approfondita nell'audio video è una parte di allenamento di una seduta dominanza neurogena dove è stato fatto un circuito naturalmente chi è interessato a consultare l'audio video book può contattarmi direttamente su messager per quanto riguarda il libro avete tutti quanti già le indicazioni per poter acquistarle dall'editora s grafica il circuito che è stato fatto in questa seduta di allenamento era strutturato in questo modo erano quattro stazioni la prima stazione poi dopo vedremo le animazioni prevedeva tre contro movement jump definiti parallel squat e quindi come farò vedere nell'audio video utilizzando questa tipologia di esercizio balistico essendo in bipodalico possiamo vedere quale espressione di forza andiamo allenare in questo caso è sicuro un'espressione di forza esplosiva perché è fatta in bipodalico senza soluzioni di continuità c'era una navetta in totale di 15 metri con cambi di senso quindi cinque andare cinque tornare cinque andare subito dopo tre contro moment jump definiti over squat avendo un angolo molto aperto cambia completamente la espressione di forza che andiamo utilizzare quindi il consiglio di vedere quanto prima l'audio video book dove analizzerò in maniera dettagliata il tutto e comunque saranno degli punti di riflessione di studio importanti dopo un micro recupero di 30 secondi c'era la seconda stazione dove andava sollecitato un'altra espressione di forza in maniera diversa con preuzione orizzontale e in maniera monopotale quindi erano tre balzi orizzontali con la gamba destra alla fine del terzo balzo si ritornava indietro effettuando tre balzi monopotali orizzontali con la gamba sinistra micro recupero di 30 secondi la terza stazione era basata su un esercizio a quanto nuovo nel senso che otto contro moment jump modello bosco pitter in che senso dagli studi fatti dal professore colli è stato visto qual è l'utilità di questa tipologia di caduta biometrica che appartiene alle tre tradizionali che sono il drop jump quindi l'angolo d'impatto angolo molto aperto il appunto il bosco pittera che ha un angolo d'impatto angolo più chiuso ma già la partenza deve essere effettuato un angolo chiuso intorno ai 100 110 gradi e poi c'è il famoso metodo il metodo d'urto che poi il padre di tutti i metodi di caduta biometrica creata negli anni 50 dal mio maestro il professor iuri vitalovic verko saschi fatta questa terza stazione c'era un altro micro recupero di 30 secondi la quattro stazione era un esercizio normale di core training quindi era un'alternanza di planche e piegamenti sulle braccia tutto il circuito fin di formato da quattro stazioni la definiamo una serie alla fine di questa serie composta appunto che era il circuito intesa come serie con le quattro stazioni c'era un recupero di 60 secondi e in questa seduta sono state fatte 4 4 serie andiamo a analizzare nel dettaglio alcuni esercizi che ho citato che fanno parte dei circuiti ad esempio c'era un circuito dove c'erano i tre balzi con protezione orizzontale monopodalici come vedete prima con un arto e poco l'arto e questo è un esercizio che ha molta affinità col gioco del calcio attraverso l'indagine fatta dal professore colli con quanto riguarda l'attività etomeografica è stato visto che è un'attivazione diversa rispetto a un balzo fatto in maniera monopodalica con proiezione verticale e quindi ci sono tanti spunti riflessivi l'altra sezione abbiamo visto prevedeva tre contro movement jump parallel squat quindi vedete l'animazione tratta dagli studi di colli con angolo molto chiuso alla fine del terzo c'era questa navetta quindi con due campi di senso di ogni lato di 5 metri e alla fine dei 15 metri c'erano tre contro movement jump open squat quindi con angolo molto aperto che andiamo a sollecitare proprio in funzione dell'angolo della conoscenza del fatto che la forza è angolo dipendente e quindi attraverso gli studi dell'elettromicografia integrata con l'immagine video con le pedane di forza sappiamo che andiamo a sollecitare altre espressioni di forza che andiamo nell'area reattivo elastica l'esercizio che ho fatto vedere prima praticamente il l'esercizio il bosco pittera praticamente è quello che stiamo vedendo nell'animazione adesso vedete la partenza già angolo chiuso e l'angolo d'impatto importante che deve essere d'angolo chiuso cosa diversa rispetto al famoso esercizio il drop jump partenza dritta e angolo d'impatto con angolo molto aperto quindi c'è un leggero piegamento e il pattern di reclutamento cambia completamente in funzione di questo andiamo a vedere la proposta di lavoro che ho fatto io prende veniva chiesto all'atleta facendo dei balzi in fase di volo nell'altra in questa successione si vede meglio per riuscire a farlo bene va educato naturalmente l'atleta bisogna già cercare di tenere le gambe piegate in modo da favorire un angolo d'impatto un po come succede quando si cade da un cubo l'angolo d'impatto deve essere un angolo chiuso intorno ai 110 gradi questo nel momento che viene educato bene l'atleta a questa tipologia di lavoro ti permette di fare un esercizio del bosco pittera senza salire e scendere dal cubo è un'alternativa oltre all'utilizzo classico del bosco pittera è stata una seduta molto molto simulante nell'audio video book io farò vedere molti esercizi analizzerò attraverso immagini video di quelle che sono le caratteristiche dell'azione balistica con proiezione orizzontale con proiezione verticale in maniera bipodalica in maniera monopodalica come andare individuare le espressioni di forza che alleniamo quali do una serie di indicazioni per costruire tante sedute diverse come anche per esempio farò vedere la differenza che cosa secondo me l'ho osservato attraverso il momento in cui si decide di fare degli esercizi con azione monopodalica con proiezione orizzontale quali spunti riflessivi di indagine possono essere visti attraverso una semplice ripresa video rallentata ecco quindi questo audio video serve per dare delle indicazioni e per richiamare all'attenzione oltre della dispensa che già in vendita da alcuni mesi della ultimissima mia produzione mio ultimo lavoro questo audio video book formata da 18 capitoli che io reputo veramente interessante e mi auguro che la stessa cosa possa essere per voi buona vita a tutti